Ciao a tutti, oggi è il 30 marzo e siamo in piazza Piemonte per farci firmare il cd da Lorenzo Fragola e siamo alla Feltrielli, sono le 15 e 22 precisamente e lui dovrebbe arrivare alle 5 e mezza, quindi ci aspettano molte ore in fila e niente Sì, sì, certo, convinti, convinta Stiamo facendo gli special order, cioè gli speciali che potete andare nei giorni successivi con questi special potrete salire sul parco Ciao, ciao bella Ho appena annunciato che non possiamo usare il telefono perché ci sarà un fotografo che farà le foto però noi lo usiamo lo stesso Oggi Jessica non c'è perché è pulizione però sicuramente la faremo uscire perché deve fare con noi un altro video cioè tutti gli altri video e quindi niente ci stiamo avvicinando ho un problema con la videocamera professionale Forse arriverà domani Siamo quali in fondo Portarti vai Forse d'anno Quando vai Potrei darti il mondo Foto per favore Foto Andiamo, grazie Raga Raga Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Allora siamo riusciti ad abbracciarlo Cioè è anche fuori la fila Stai 5-10 Ed è fino a fuori la fila Quindi minimo dovranno fare tutti quanti 4 ore di fila Meno male che siamo arrivati alle 2 Raga non so se capite Che l'ho abbracciato Anche l'ho abbracciato Amo Teso XD Vita Cuore E quindi niente Raga Niente Ora approfittiamo di essere qua Per farci un giretto Sempre se non ci sciogliamo al sole E voglio un gelato io E niente Approfittiamo anche di essere qua Per fare un video In cui facciamo un esperimento sociale Che poi magari pubblicheremo sul canale Se viene bene E niente Ciao a tutti Ciao a tutti